Io sono felice di essere arrivato qui perché dall'esterno il Sassuolo dà un'immagine di una società seria organizzata importante che lavora molto bene con con i giovani tant'è vero che anche quest'anno il Mister De Zerbi ha fatto esordire diversi giocatori, diversi giovani e quindi penso che il Sassuolo lavori molto bene nel settore giovanile su dei profili che poi hanno anche la possibilità di giocare in Serie A, quindi questa è la prima cosa. Palmieri per lui è stato facile convincermi perché l'ho sempre visto come una persona competente, una persona che ha grande passione e intuizione per quello che fa e il fatto che siamo conterranei sicuramente ha anche fatto sì che io scegliessi questa splendida realtà. Se non sbaglio questo è il quattordicesimo anno che alleno, ho iniziato con i giovani, poi ho fatto quasi tutte le categorie e da sei anni a questa parte, dopo aver fatto Empoli allievi nazionali, un anno selezionatore dell'Under 17, sono approdato a Firenze, sono tornato a casa se vogliamo perché ormai Firenze è la mia seconda casa, per fare il campionato primavera, campionato che è diventato da tre anni a questa parte un campionato vero, un campionato che è molto performante per i ragazzi che escono e hanno la possibilità di giocare con i grandi, quindi un campionato difficile, in tre anni siamo riusciti a fare delle ottime cose perché insomma centrare cinque finali penso con tre gruppi diversi, non è cosa semplice e io mi auguro di togliermi tantissime soddisfazioni qui a Sassuolo dove ripeto ci sono sempre delle squadre competitive e quindi cercherò di tirare fuori il massimo dai miei ragazzi. La primavera è una categoria di confine, una categoria particolare che avvicina più possibile i giocatori alla prima squadra. Io dovrò essere bravo con il mio staff, con i miei dirigenti a creare una mentalità che possa permettere a ognuno dei miei ragazzi di poter ambire a vestire la casacca nero verde anche in Serie A e dare la possibilità a qualcuno di loro di essere presi in considerazione da del Zerbi. Quindi il mio obiettivo principale è quello. È normale che secondo me, a mio avviso, per la mia esperienza, spesso questi risultati vanno di pari passo anche con quello che si fa in campionato. E noi dovevamo avere un profilo basso perché comunque non mi è stato chiesto niente di impossibile, però cercheremo di essere la sorpresa di questo campionato e di rendere dura la vita a squadre più blasonate di noi. Il mio passato giustamente porta ad avere delle aspettative su di me e di conseguenza sulla mia squadra ma sono convinto che faremo bene perché sicuramente allestiremo una squadra, una rosa di ragazzi che possono fare davvero bene. Io sono arrivato qui lunedì scorso, quindi una settimana fa, otto giorni e sinceramente non mi aspettavo di trovare un centro così all'avanguardia, un centro così funzionale, un centro completo in tutto. Devo dire che a fine serata ho tanti passi fatti sul mio telefono, penso di aver fatto nell'ultima settimana 11-12 km al giorno, ciò significa che gli spazi sono enormi, si può lavorare nel modo giusto e quando hai delle strutture del genere sicuramente ne trae vantaggio tutto il movimento del settore giovanile, perché la prima squadra ha la priorità su tutto, però per noi allenatori del settore giovanile e per i ragazzi sicuramente è uno stimolo in più a far bene vedendo quello che la società ha costruito per loro. Il Sassuolo sarà una squadra aggressiva, sarà una squadra organizzata, ma sarà soprattutto una squadra umile. Il campionato di Primavera 1, come dicevo prima, è diventato un campionato difficile, soprattutto con l'introduzione dei cinque fuori quota, con l'introduzione della retrocessione, playoff, playout, l'aspetto emotivo è cresciuto e ci saranno momenti di difficoltà dove dovremmo essere bravi a rimanere sempre equilibrati, perché penso che l'equilibrio ti porta ad ottenere buoni risultati sia in campo che fuori dal campo, quindi mi aspetto questo. Quindi a fine stagione Emiliano BG sarà soddisfatto se? Se riuscirò a fare in modo che due, tre giocatori possano essere introdotti in pianta stabile in prima squadra e se avremo centrato i playoff.